Mr. Falsone, oggi primo giorno di allenamenti per il Canigatti Calcio, nuovi acquisti, il Canigatti vuole vincere? Sì, oggi è il primo giorno di questo rado 1, lo stiamo dividendo in due fasi, da oggi a sabato lo facciamo qua nella Penetina vicino Canigatti e poi la domenica abbiamo già un'amichevole a Zaffarana contro il Gela e poi riprendiamo l'1 fino al 13 mattina e pomeriggio, sempre alla Penetina e al campo sportivo. Per quanto riguarda i nuovi acquisti abbiamo preso quasi il meglio che c'era l'anno scorso in promozione e qualcuno anche di eccellenza. Sappiamo che abbiamo una grossa responsabilità di cercare di fare bene, di portare questo Canigatti in eccellenza, a meno che non ci andiamo tramite il ripescaggio. Cosa dire, ci facciamo noi stessi un impocca al lupo e un augurio di poter fare meglio dell'anno scorso. E' difficile perché su 18 partite ne abbiamo vinte 16 e due pareggi, però tenderemo di fare bene. Pietro Rodiana, direttore sportivo del Canigatti Calcio, quest'anno nuovi arrivi tra i giocatori del Canigatti. Il Canigatti vuole vincere seriamente? Vuole vincere ma non vuole vincere facile, vuole vincere giocando. Naturalmente abbiamo fatto degli acquisti idoni alla nostra rosa e ci proveremo, ma anche se è un campionato difficile e non saremo soli a giocare, ce la giocheremo con altre squadre del nostro girone. Quali sono le novità che i tifosi del Canigatti quest'anno vedranno in campo? Una di quelle novità che non vedranno è il campo che purtroppo, ahimè, siamo ancora in terra e battuta, ma stiamo lavorando veramente molto forte per realizzare questo sogno di tutti, dei tifosi ma di tutta la città. E poi penso che vedranno una squadra già all'inizio del camionato abbastanza competitiva.